Buonasera Mimmo come stai? Tutto a posto è lei? Tutto a posto mio marito, senti che posto mi hai messo a posto? Ma dietro la colonna, mi scena il caminetto, eh? A dopo, a dopo. Oh maresciallo carissimo, come va? Tutto bene? A solo stasera? A solo. E questo abbigliamento? Il dottor ha detto che devo mangiare in bianco, quindi io vorrei mangiare invece una bella peppa a zicozze, una peperonina tripina. Va bene, dopo venga a prenderla. Vogliamo la peperonina. Oddio, bittina.